Sì, sì, stanno dietro Sì, sì, stanno dietro Quello lì centrale Quello centrale Centrale, questo è centrale Mamma mia, guarda questo Ecco lì, ecco lì, guarda lì, guarda lì Ce l'abbiamo dietro Ce l'abbiamo dietro, guarda, ora parte la sirena Guarda, perché? Perché ora parte la sirena Ma ne vedi, guarda, guarda, stanno dietro quella sirena Perché ti fanno la sirena? Ecco lì, ecco lì Ecco lì, ecco lì, ecco lì Porco Dio Ma che hai fatto? Che scendete qui? Dava quella pistola, la matto Ma che è questa roba? Ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo hai fatto? Dava quella pistola Aspetta, spiegami un po' Che è questa roba? Ma che cazzo hai fatto? Dio, vabbè Ma che cazzo hai fatto? Fammi, fammi, fammi il distintivo Samborghese, sai? Oh, va bene Eh, ma che bova ho fatto? Ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo hai fatto? Non ti arrivi un faccia, non ti arrivi un faccia Oh, non ti arrivi un faccia Aspetta, aspetta Non ti arrivi un faccia Non ti arrivi un faccia Ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo hai fatto? Allora, i documenti della macchina I documenti della macchina I documenti della macchina Oh, se è il giorno Oh, i documenti della macchina Si, dai gli documenti della macchina Dai gli documenti, ad anche Vabbè, spieghi sta sirena Spieghi sta sirena Le do tutto, le do tutto Le do tutto Le do tutto Dai gli ho visto da sotto casa che mi sta attaccato E dai, io sono andato ieri Sono andato ieri Sono andato ieri Sono andato adesso, guarda Guarda quando sono andato Non vado in macchina, ho lavorato per loro, ma prendono pure informazioni. Ti serve vedere che è lì? Ti faccio vedere io. Ti serve vedere che è lì, signora. Ci sta tutta la fotografia, avanti e dietro. Stiamo a leggere il contratto, è nuorizzato, è leasing, non ci stanno proprio. Fate tutti gli accertamenti che vi faccio. Voglio spiegare una cosa, signore. Devi lasciar perdere sta giantaccia di merda. Quello è un altro discorso. Stai facendo rap per tu, vedo? Che sta a fare? Posso dare un'occhiata? Ho capito, che è una pistola per criminale. Dì la voce, questa è una pistola. Ma è quella? Già mi sono venuti a casa, non ti preoccupare. Già mi hanno perquisito tutto a casa. Non c'è niente. Ma non c'è la pistola. Eppure c'è una paura. Dai, stai facendo questa pistola, dai. Adesso la togliamo. È bella, dai. Ma da qui la pistola la faccio. Ho capito il problema. Ho chiamato ieri, ma non c'erano un attimo. Non c'erano un po' di video con la pistola. Ma quella pistola che farsa? Tu sei pronto. No, venuti a casa. Vabbè, dai. Questo non lo dobbiamo. Ma che nozza, che no, vedi? No, non la svolto. Dai, vai questa macchina. Ok, si è fatto qualche cosa che ha guidato, eh. Se volevo da voi non me lo dà. Eh, io l'ho, 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 l'ho. Non c'erano un po' di video. No, non c'erano un po'. No, non c'erano un po' di video. No, non c'erano un po'. No, non c'erano un po'. Argellio, te lo dico, mi hai rotto il cazzo da manno al paese, te lo dico. Prendi avanti, guarda quello che sto a fare. Dai. Mamma mia. Ma già si è diventato un problema, si è diventato... Sono diventato un criminale. No, sei il pericolo pubblico. Sono caduaggi sulla faccia. Se ne devi andare a farlo. Sono caduaggi sulla faccia. Ma come io sono pure caduato il nome del nome. Eh, sapeva roba uno strutto. Fa bello, vai. Io me la vado. E' così. è così, il 1727 è così, il più ricercato, il più ricercato, il più ricercato che dici, mami, sei contenta che hai partorito un figlio così criminale e ricercato? beh, un'altra battuglia, raga, tosta così io l'ho dato, io l'ho dato, al collega oh, io l'ho dato la carta di identità mia, io l'ho dato al collega con la mascherina nera fermate io, mamma mia, che si roba la sede, raga tol' dato, oi, tol' dato, oh, devo fare la denuncia, che vedo, non sapevi che mi ruba del documento tol' dato, la prima cosa che mi chiesto è il documento, tol' dato, guarda, c'ho una casella ruota qua nel portafoglio, stava qua mi auguro che scemo voglio ma io dico ma hai capito tutta sta cosa dell'invito è stata tutta una cazzata per farsi trovare sotto a un orario tutti tutti quanti come no mica stavo chiede io però prima si mi sono andato il cambio che sto un po' forte grazie io ho spiegato io ho spiegato era quello la signora che non sova tanca mia mamma la signora è residente in italia c'è la residenza in italia sto ricordo ecco io io sono un poliziotto potrei lavorare per la polizia non è in italiano vero? come no? c'è la traduzione dal consolato dietro pagina per pagina dove c'è scritto tutto ma hanno fermato più volte tutta la traduzione questo è il tribunale di chiesto di credito questo è il tribunale cosa? non c'è il tribunale di tribunale di tribunale cosa? non c'è il tribunale di tribunale di tribunale non c'è il tribunale di 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 Perché ti vuoi andare a giochi, no? A giochi, no? Eh? Sì. Che è successo? Perché sei là?